In questa breve guida parleremo di Adobe Premiere Rush, ovvero una piccola app molto concentrata che ci permette appunto di editare velocemente dei filmati che abbiamo registrato per esempio con il nostro smartphone o con la nostra fotocamera o videocamera per poterli appunto mettere poi in condivisione in vari social. Quindi è un programma studiato apposta per chi non vuole concentrarsi troppo magari con un programma troppo complesso e vuole andare diciamo dritto al punto. Cerchiamo quindi Premiere Rush all'interno di Google e possiamo accedere alla pagina, qui possiamo scegliere la lingua e semplicemente clicchiamo su download o scarica. Qui troverete poi una presentazione appunto dell'interfaccia del programma che come vedete è molto semplice, ci permette di inserire dei videoclip, delle foto, dei testi, delle grafiche e anche fare della correzione del colore, inserire delle transizioni e via dicendo. Come vedete qua di nuovo abbiamo il pulsante per lo scaricamento e potete insomma vedere poi tutte le altre informazioni all'interno del sito di Creative Cloud. Una volta scaricato possiamo aprire il programma direttamente con l'applicazione Creative Cloud, quindi in questo caso vedete Premiere Rush, clicco su apri oppure vado direttamente all'interno di Windows, cerco il programma e lo apro oppure attraverso anche il sito dove effettuerete l'account, il login di Creative Cloud. Quindi una volta scaricato vado ad aprire e andiamo a vedere com'è fatta l'interfaccia. Piccola parentesi, se volete modificare la lingua potete andare all'interno della cartella di installazione del programma che di solito è all'interno di C, programmi, Adobe, Premiere Rush 2.0, AMT. In questa cartella troverete la possibilità di modificare la lingua, dovrete modificare questo file, application. Quindi basta fare doppio clic e modificare con it-it, quindi per l'italiano, altrimenti qui troverete in inglese, e salvare il file. Ricordate che dovrete sbloccare i permessi di amministratore per poter modificare dei file all'interno di questa cartella. Una volta fatto questo, vedete, abbiamo il programma, qui c'è dei progetti di esempio che potete utilizzare, altrimenti facciamo su nuovo progetto e possiamo dare un titolo al progetto, chiamiamolo progetto 1, qui in basso, vedete. E qui possiamo anche impostare il progetto, per esempio per uno schermo verticale o orizzontale o con un formato quadrato e via dicendo. Per esempio mettiamo un formato quadrato. Ora, il programma è molto piccolo, ma comunque ha una sua complessità, quindi qui faremo semplicemente una anteprima veloce del programma e iscrivetevi e rimanete aggiornati perché eventualmente faremo anche altre guide dedicate a questo piccolo software. Quindi qui possiamo andare a scegliere i nostri file che possiamo prendere da appunto file d'esempio, che troviamo già qui all'interno, che sono file audio e anche dei clip video. Possiamo andare anche sul nostro OneDrive, possiamo andare su Creative Cloud Files, quindi i nostri file di Creative Cloud, oppure possiamo andare direttamente in locale. In questo caso vedete che ho una cartella chiamata video che posso anche aggiungere ai preferiti con la stellina per poterci poi accedere velocemente anche in altre situazioni. Quindi posso andare a prendere appunto uno di questi video che ho realizzato con il mio smartphone e posso anche prenderne più di uno. Quindi posso fare uno e poi proseguire, per esempio due e via dicendo. Mettiamone solo due per il momento. Quindi una volta selezionati i file di partenza, andiamo a cliccare su Crea. Possiamo anche, vedete, sincronizzare con Creative Cloud. Quindi facciamo Crea e poi qui abbiamo anche dei filtri che possiamo utilizzare per la ricerca. Facciamo Crea e quindi andiamo a preparare quello che poi sarà appunto il filmato che andremo a condividere. Abbiamo scelto il formato quadrato, infatti qui vediamo appunto che il formato è quadrato. Posso adattare a tutto schermo, posso mettere in riproduzione continua, quindi in loop continuo. Posso anche modificare le proporzioni in qualsiasi momento. Vedete, in questo caso lascio uno a uno. E qui, come vedete, ho il primo clip e poi il secondo clip. A questo punto sulla sinistra trovo la possibilità di ritornare alla home page in qualsiasi momento e posso rientrare nel mio progetto in qualsiasi momento. Posso aggiungere da qui dei file multimediali, quindi di nuovo immagini, ma anche suono, grafiche e anche una voce registrata. Mettiamo per esempio una grafica e mettiamo per esempio un titolo. Quindi in questo caso clicco, trascino e rilascio all'interno della linea temporale, che è questa che vedete qui in basso. Ora posso metterlo prima del filmato o anche in sovraimpressione. Mettiamolo al di sopra, quindi cliccando, trascinando col sinistro del mouse. Adesso vedete che abbiamo anche un titolo. E possiamo decidere anche quanto lungo deve essere semplicemente cliccando e trascinando questa traccia. Ok, all'interno del titolo, se faccio doppio clic sulla traccia o doppio clic qui all'interno della sequenza, posso modificare il titolo. Quindi chiamiamolo appunto Premiere Rush, in modo tale da avere un testo editato. Non solo, possiamo anche andare qui, vedete, e modificare il colore del testo, il colore del contorno e tutti quanti gli altri parametri. A seconda dell'oggetto che selezioniamo, sia esso un video, un titolo, una grafica, abbiamo una serie di possibilità che possiamo gestire qui sulla destra, quindi le proprietà sulla destra. Sulla sinistra possiamo continuare ad aggiungere via via altri elementi multimediali. E poi qui, come vedete, possiamo andare nelle risorse già presenti, cliccare e trascinare. Magari possiamo accorciare un video e poi prendere il secondo pezzettino del video e metterlo alla fine, quindi abbiamo veramente tante scelte. Qui posso, vedete, cliccare sui bordi, accorciare i video e prendere solo la parte che mi interessa. E poi posso riportarli di nuovo all'interno e posizionare magari un'altra parte. Posso anche tagliare qui in basso i video, quindi posso decidere di tagliare questo clip in due e magari posso eliminare questa parte. Posso anche duplicare, posso espandere, vedete, la linea temporale facendo vedere anche l'audio all'interno del video. E qui posso aggiungere anche dei voiceover, quindi posso registrare più tracce di parlato magari al di sopra della musica, al di sopra dei suoni ambientali che già ci sono all'interno del video. Qui sulla destra andiamo a vedere che cosa possiamo fare, quindi di nuovo selezioniamo una clip che vogliamo andare a modificare, anche da qui possiamo aggiungere di nuovo un elemento grafico, oppure possiamo lavorare su quelli già esistenti. Per esempio qui il primo pulsantino che vedo è il pulsantino delle transizioni, in questo caso la transizione va a posizionarsi tra un clip e l'altro e posso scegliere che tipo di transizione utilizzare, oppure anche in entrata, quindi posso mettere per esempio a comparsa da destra e quindi come vedete avrò questa transizione e poi qui posso scegliere appunto se fare magari una dissolvenza incrociata. Quindi l'immagine precedente svanisce e appare l'immagine successiva, tutto in maniera veramente molto semplice. In più ho anche altri effetti come per esempio l'effetto di pan o di zoom e altri effetti che potete applicare magari su delle immagini fisse piuttosto che su dei video che già sono per loro animati. E poi anche un reframe, quindi lasciamolo diciamo in modo automatizzato che aggiusterà un pochino il video. Ok, facciamo di nuovo reframe e vedremo insomma che ci sarà un aggiustamento. Scendiamo giù, abbiamo poi la possibilità di colorare, quindi di fare una correzione del colore o anche di alterare in maniera molto esagerata la nostra immagine. Come vedete questi funzionano in modo molto simile ai filtri di Photoshop o anche di Instagram o di Facebook e via dicendo. Quindi posso vederli tutti quanti con calma, posso decidere poi di applicarne uno piuttosto che un altro. E posso anche modificare qua l'intensità. Ok, a questo punto andiamo avanti. Abbiamo la velocità, quindi possiamo gestire la velocità. Come vedete in questo caso sto abbassando la percentuale, quindi sto rallentando il video. Quindi andrà molto più lento adesso, quindi sarà anche più lungo. Anche qui posso aumentare la velocità scendendo di percentuale o aumentare la velocità aumentando appunto la percentuale. Attenzione perché se rallentate troppo potrebbe essere anche un po' troppo visibile. E qui mettiamo anche sfumatura che ci aiuterà a mascherare un po' dei problemi dovuti al rallentamento. Qui abbiamo come vedete la parte dell'audio, quindi possiamo vedere che tipo di audio stiamo utilizzando. Se vogliamo lavorare sulla voce possiamo mettere anche per esempio la riduzione dell'eco, la riduzione del rumore di fondo, il bilanciamento del suono, tutte impostazioni automatiche molto veloci. Infine abbiamo la possibilità di tagliare via parti dell'immagine oppure vedete magari spostarla leggermente e ricentrarla un pochino come preferiamo. Possiamo lavorare anche con l'opacità, con la rotazione e con tutti gli altri parametri che vedete qua. Una volta che abbiamo terminato il nostro piccolo montaggio, le impostazioni varie, andremo qui su condividi e possiamo condividere quindi sia il locale, quindi possiamo salvare questa prima sequenza in formato mp4. Qui abbiamo tutte le impostazioni, quindi la risoluzione, la frequenza dei fotogrammi eccetera eccetera. E poi possiamo anche condividerlo velocemente anche con YouTube, con Facebook, con Instagram, con Behance. In alcuni casi dobbiamo effettuare l'accesso per fare poi una pubblicazione diretta. E quindi ci fermiamo qui per questa breve guida dedicata a Premier Rush. Non vi resta altro che andarlo a utilizzare, provare, è veramente molto semplice. Qui in basso vedete poi, cliccheremo su Esporta per concludere. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati anche su altri video e se volete supportarci e ringraziarci potete farlo abbonandovi al canale come supporter. Ci fermiamo qui, andate a vedere anche i corsi dedicati ad After Effects, Premiere, Photoshop e tutta la suite di Adobe che troverete all'interno del canale e altre guidi e altre corsi. E ci vediamo nella prossima guida.